Il gruppo COGIP negli ultimi anni ha avuto un processo di fortissima evoluzione e di grandissimo sviluppo. Abbiamo costituito la COGIP Holding che a sua volta controlla tre subholding di settore specializzate, ognuno nel proprio core business, quindi infrastrutture, energie rinnovabili ed immobiliare. Questo ha comportato che all'interno della holding abbiamo concentrato tutte le attività cosiddette orizzontali, quindi l'amministrazione, il controllo di gestione, la finanza, gli acquisti, la comunicazione, i servizi di segreteria per tutta la società del gruppo. COGIP Infrastrutture oggi è impegnata in Italia e all'estero con il core business che è quella della realizzazione di grandi opere infrastrutturali, in particolare realizziamo in questo momento opere che variano dalle autostrade, da opere portuali, lavorando a Genova. Anche a Genova stiamo realizzando delle opere tecnicamente evolute, per la prima volta dopo anni in Italia si utilizza l'esplosivo per fare dragaggio portuale. Stiamo tentando di raggiungere l'obiettivo di consegnare i lavori con largo anticipo rispetto ai tempi contrattuali. Oltre a un solido settore tecnico la COGIP annovera anche una parte finanziaria e di sviluppo di progetti che sta cercando di guardare oltre alla costruzione di cantieri importantissimi, ma guarda il mondo dell'innovazione. In particolare abbiamo sviluppato parecchi progetti nelle energie rinnovabili, progetti che hanno bisogno accanto di uno studio e di un'analisi finanziaria importante. Il lavoro di Genova in questo momento consiste nella realizzazione di un nuovo grande piazzale che deve ospitare i terminal container nuovi del porto di Genova. Ci sono circa 200.000 meri quadrati di nuovo piazzale. Viene realizzato attraverso una diga che contiene il materiale di dragaggio che viene dal dragaggio di tutto il porto di Genova. E quindi sono circa 2 milioni e mezzo di metri cubiti che vengono dragati dal porto nell'arco di un paio di anni. Viene realizzato con consolidamenti del fondo perché è necessario dragare anche e poi consolidare il materiale che viene dragato essendo un materiale soffice. Dopodiché si realizzerà anche una darsena nuova, una darsena tecnica che serve per il polo di bunkeraggio del porto di Genova che rifornisce tutte le navi dell'intorno di Genova. E quindi nell'ambito dei lavori è previsto anche il dragaggio di un'area particolare che è al centro di un bacino che si chiama bacino di evoluzione, cioè dove le navi compiono le manovre per approdare. All'interno di questo cantiere abbiamo svolto una parte del ruolo che seguo per tutta l'impresa che è quello di aiutare il cantiere nella gestione tecnico-amministrativa del contratto. E quindi dare il giusto ausilio a quelle che sono gli sviluppi noti, ignoti, anomali ed ordinari nella crescita del contratto. Il contratto è un organismo vivo, nei lavori pubblici siamo di fronte ad un evento che non essendo industrializzato subisce tutte le modifiche legate al territorio, agli imprevisti, alle metodologie, alla tecnologia e allo sviluppo normativo. Per cui in questo cantiere, così come in tutta l'impresa, abbiamo curato il corretto svolgersi del contratto. Cogip è un'azienda che è nata nel settore delle infrastrutture, si è sviluppata, dicevo, grazie a questa capacità tecnologica in tutti i settori, sia nella parte di realizzazione dei processi, l'innovazione tecnologica anche in tutti gli altri aspetti delle attività operative. Ma soprattutto Cogip ha saputo negli ultimi anni realizzare una diversificazione che, valorizzando le sinergie con il core business e le infrastrutture, ha puntato sulle energie alternative. Oggi Cogip è un'azienda che opera mettendo al centro una logica, una strategia di responsabilità sociale, dove responsabilità sociale significa attenzione al territorio, attenzione all'ambiente e capacità di costruire, insieme ai suoi uomini e alle sue donne, e insieme al territorio in cui opera, una società più sostenibile e migliore per il futuro. Grazie a tutti.